Pronta per noi la nostra inviata, Marcella Maresca da Strasburgo. Buongiorno Marcella. Buongiorno a te Marzia, buongiorno a tutti voi. In questo momento proprio in aula si sta parlando proprio di Ucraina e di Gaza. Si sta preparando il prossimo summit europeo del 21 marzo. Il dibattito è alla presenza della Presidente della Commissione Wunderlein. Per i prossimi 5 minuti, come anticipavi tu da studio, noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a pensare a concentrarsi al contenuto del proprio frigo e del proprio armadio e a pensare a quante degli oggetti che sono contenuti all'interno finiranno nella spazzatura. Perché è proprio di questo che oggi vogliamo parlare, cioè di sprechi nel settore tessile e in quello in ambito alimentare. Lo faremo con le nostre due ospiti, eccole qui, ve le presento. Sono Francesca Peppucci di Forza Italia, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. E Mariangela Danzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutte e a tutti. Partiamo subito con un paio di dati, giusto per fotografare la situazione. Vediamo dai cartelli. Partiamo dal primo, lo spreco alimentare nell'Unione Europea. Ogni anno, pensate, 60 milioni di tonnellate di cibo finiscono nell'immondizia. Vuol dire 131 chili a persona. Andiamo invece sull'ambito della tessile. Il secondo cartello. Soltanto in scarpe e abbigliamento in Unione Europea si buttano 5,2 milioni di tonnellate, il che significa 12 chili a persona. Cara Marzia, sono veramente dei dati che fanno saltare dalla sedia. Cara Marcella, che però magari vogliamo leggere insieme e commentarli, anche con gli ospiti ovviamente. Mariangela Danzi. Sì, nei nostri armadi succede che mettiamo tanto materiale, a volte fibre naturali, che però significano deforestare o coltivare, sfruttare i nostri terreni per materie prime che poi saranno appunto non utilizzate. oppure abbiamo i nostri armadi pieni di materiale dannoso per la salute, di sostanze dannose per la salute che finiranno poi nell'ambiente. Quindi l'Unione Europea da questo punto di vista sta facendo una strategia sulla riduzione del prodotto tessile che mira appunto a garantire un minore sfruttamento di materie prime e minori rifiuti nell'ambiente. Adesso proprio a questo arriviamo. Intanto volevo anche ricordare che soltanto l'1% di questi rifiuti di cui abbiamo appena parlato viene poi riciclato per produrre nuovi prodotti. Questo al momento. Che cosa vuole fare il Parlamento Europeo? Proprio domani sarà votato in prima lettura una proposta di revisione della direttiva sulla gestione degli sprechi. Vediamo che cosa prevede con i prossimi due cartelli. Partiamo dal cartello 3. Gli obiettivi. La riduzione degli sprechi alimentari entro il 2030. Bisogna arrivare almeno 20% nella trasformazione e produzione alimentare. Meno 40% invece nella vendita al dettaglio ristorazione e nei servizi di ristorazione e famiglie. Questo per quanto riguarda lo spreco alimentare. Andiamo invece a vedere quali sono le nuove norme per i rifiuti tessili. Questa è la più importante. I produttori dovranno coprire i costi di raccolta, cernita e riciclaggio dei rifiuti tessili e tutti i Paesi membri dovranno garantire la raccolta differenziata di quei prodotti tessili che devono essere poi destinati allo giutilizzo. Tutto questo entro il 1 gennaio 2025. Allora, alle nostre ospiti chiedo, partendo adesso da Mariangela Danzi, sono norme con cui siete d'accordo, sono ambiziosi e al contrario troppo poco ambiziosi e soprattutto qual è la responsabilità estesa delle imprese come vi suona? È necessario che ci sia la responsabilità estesa delle nostre imprese il che aumenterà sicuramente qualche onere ma se accompagnata da una serie di misure che noi abbiamo fatto, ad esempio il regolamento sull'ecodesign e se soprattutto nel settore tessile sapremo pretendere delle etichette che ci indicano dove i prodotti vengono appunto filati, nobilitati, questo aiuterà le nostre imprese a essere più competitive e quindi ad assorbire questi oneri. Quindi io sono assolutamente favorevole perché appunto, come dicevo prima, ma utilizzare materie prime o buttare dentro i rifiuti non va bene perché danneggia l'ambiente, molti di questi tessuti sono sintetici e hanno dentro micropastiche. In chiusura, una battuta velocissima, proprio 10 secondi di commento alle elezioni in Abruzzo. E Angela Danzi? Dopo la Sardegna l'Abruzzo è il secondo esperimento di campo largo progressista che si forma su persone competenti e autorevoli. La partita in Abruzzo era complessa ma è stata una bella palestra e un esperimento che ci dice che quando sui programmi si fa d'accordo e si scelgono le persone giuste riusciamo a dare una risposta anche se non vincente ma di speranza per il futuro ai cittadini. Grazie mille!